Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, vai da Olimpiadi Comandiani, oggi giorno 5, abbiamo trampolino 3 metri uomini donne, piattaforma 10 metri uomini donne, pistola automatica 25 metri, tiro con l'arco a squadra e uomini donne, perché pistola ovviamente uomini e donne, canottaggio uomini e donne, siamo solo su Londra oggi, volevo dire che solo per i tuffi sarà livello meglio e non difficile, perché con difficile sono zero possibilità di medaglia, con medio, qualcuno in più, quindi solo per quello, ma vi avviso che non sarà per niente facile, allora partiamo con trampolino 3 metri, femminile, vai sarà dura, ma ci proveremo mentre il trampolino è veramente no duro di più, vorrei darmi almeno una chance, perché se no non ha proprio senso farlo, vai Ricordiamo che qua la Cina è maestra, guarda che bella donna, cominciamo così e vediamo Ahia, ecco, cominciamo benissimo, non ho sbagliato, tasto, vabbè finita praticamente, che due coglioni Ma perché? Perché l'analogico sinistro, pirlone di un cume, vabbè, calma Ma perché non mi gira? Niente, non riesce a girare Mamma mia, mamma mia, siccina mostruosa Ma scusate, ma perché non vira? Cos'è che sbaglio? Cos'è che sbaglio? Beh Il final cut Forse ho capito, vabbè, quello femminile andrà così Ma neanche ultimo però dai Cina, Olanda, Australia Olanda sta facendo veramente una bella olimpiade e Australia, anche l'Australia, va bene Tuffi, tre metri maschile Dai Che palle ho però, meno male che Stati Uniti non è forte qua perché sennò Vai Allora, quindi su o giù probabilmente Su, verso su Niente, c'ho sbaglio continuamente Sono difficilissimi i tuffi Ah, c'è USA però, attenzione, USA c'è No, no I tuffi sono impossibili, cazzo Sono impestati Questo è bello Questo è bello Finalmente Questo è buono Vediamo se recupero Eh, cazzo, siamo quarti Bene Devo rischiarla Bello Siamo in ripresa Beppe Grazie Questo è grande, grande, grande Stiamo lottando Sì, beh, forse, beh, vediamo Eh, sì, ciao No Un po' difficile questo, vabbè, ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato, Beppe Ci ho provato Eh, faremo l'impossibile Beh, allora, questo l'ho fatto anche benissimo Non ho parole Peccato Quarto posto, se non sbagliavo, il quinto Avvicino, ovviamente C'è oro Usa Argento Irlanda Brondo Sì Brondo Sì Questo atleta finisce in terzo Beh, allora Adesso abbiamo Piattaforma Qua, sai, è più da Diciamo che è più alto, quindi Qualche speranzella in più ce l'abbiamo, secondo me Adesso abbiamo un po' capito, diciamo Vai Cominciamo così Ma no, niente, con le donne è impossibile Non capisco il perché Eh, niente, brutto errore Attenzione, Stati Uniti è prima Attenzione Molta Rischiamola già e basta Questo è grande, questo è bello Molto bene Come recuperiamo qua Terzo Terzo infatti Ci siamo tutti vicinissimi Godo Rischiamo ancora Dai Mamma mia Prodezza balistica Prodezza balistica di Veneziano Calma perché siamo primi con un bello vantaggio anche Non Non No Non si credo Ciccato così Guarda che merda Guarda che merda No, le vince anche l'America, zio Ok Non sta andando benissimo il Giappone per il bonus Fargento Fargento E cina bronzo Ragazzi l'olimpiade sta diventando dura adesso eh Tuffi Piattaforma Maschile Diciamo Diciamo che per fortuna poi abbiamo le discipline di tiro e dopo E la di solito abbiamo visto che facciamo merdone Però Non fare neanche una medaglia qua mi dispiace Cazzo Cominciamo I cazzo Non è semplice questo eh Però Cominciamo da fenomeni Siamo primi Vai Immagazziniamo Mamma cosa sto facendo La parziale ci vede in fuga ragazzi eh Rischiamo un po' meno Nooo 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 Sono un coglione Faccio meglio o più difficile Incredibile Ancora primi però Sbagliato Sbagliato Che bello Però Siamo ancora primi forse Mamma mia siamo tutti vicinissime Devo rischiarla eh questo è durissimo Nooo Nooo Non ci Nooo Sei un cane però Ma 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 vai a cagare ma Va bene ma non dico niente perché Che Dai Sono due tasti è impossibile Ancora quarto Quinto addirittura USA Cina Sembra Gran Bretagna Non mi aspettavo Questa Questa Debaccola Della Cina Stati Uniti ha preso due ore molto pesanti Porca Puttana Adesso abbiamo Pistola automatica 25 Uomini Dai Queste sono le nostre discipline di solito The Royal Artillery Questa è un po' più difficile però eh Però Non siamo ratti male Veloce Buono Mamma mia però Stati Uniti stanno pompando adesso Nooo Nooo Siamo in crisi ragazzi Male Fuori dal podio Incredibile 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 Niente è andata malissimo purtroppo Finiamo quarti Altro oro per USA Male Gran Bretagna Argento Belgio Brunzo Disastro Aspetta un attimo Vai Per il Due Riproviamoci Calma Stiamo più calmi sugli 8 secondi dai ottimo merda calma buono dai siamo tornati sono due di 4 secondi non benissimo ma vai difficilissimo non male mamma che sfida per loro siamo tutti là adesso devo fare il miracolo me l'ho partito bene ho sbagliato oddio cristo becco il podio però vince il Regno Unito manco male meno male che ha vinto Gran Bretagna Italia sarà la prima medaglia per oggi però siamo in difficoltà e anche troppo purtroppo scusate scusate tiro con l'arco a squadra femminile quindi dovremmo usare questo e questo perfetto vai guarda che bello direzione del vento ok madonna se è duro un coglione calma quindi questo devo farlo verso il basso non è cambiato ma perché scusa ok mamma mia quanto ho vinto non stiamo andando bene dai come dai non benissimo la corea è maestra qua la corea qua è maestra si parte bene secondo round no 6 ma dai ma dai male non sto capendo il vento eh vabbè devo fare molto meglio però cambiamo il vento e questo vento non lo capisco mai da meglio quinti porca miseria corea fortissima 9 mamma c'è dura che balle buono buono ma perché ma dai questo non lo capisco proprio eh siamo là insomma sarà durissimo anche per il terzo posto vai andiamo avanti a fatica ma andiamo avanti dai come niente niente eh bello tosto eh siamo davanti così il podio non lo prendo neanche per sbaglio male mi aspettavo di più sta giornata eh a finire che faccio le medaglie con l'atletica buttata via qua proprio quinto posto corea turchia ok doppio bronzo perché c'è anche il giappone in questo caso in questo caso non perde l'ultima allora corea oro previsto turchia argento giappone bronzo usa bronzo ok adesso abbiamo chiaramente il tiro maschile vai e dopo abbiamo il canottaggio che siamo delle pipe quindi proprio me ne dà oro oggi questo è l'unica sciasca che ho qua ecco gli uomini abbiamo delle volte più fortuna dai ma non ha senso se è un 6 così cioè se va verso l'alto devo far basso e va su boh non capisco che male che male stia mandando mamma mia inizio disastroso anche per il tiro a squadre maschile man mamma mia Che bella No, ho sbagliato tutto Un disastro assoluto È perfetto Adesso, di fatto Recuperiamo qualcosa, ma poco Dai, come, dai Un po' meglio, ma Non ancora al top, purtroppo No Ah no, invece è andato bene Incredibile Dai, stiamo un po' recuperando, forse No, questo è sbagliatissimo Eh, infatti Vale, male, male Quarti e meno cinque Ultima chance Che giornata disastrosa, ragazzi Neanche un'ora Oggi per il cume Magrissima Magra, magra Magra per il talentissimo Dieci che serve a poco Nove Quarto posto, niente Sempre medaglia di legno Quindi qua è Giappone-Corea Per il classico bonus Da scuola di case Giappone Corea E Gran Bretaglia E Gran Bretaglia Ok Va bene E va bene Un cancer Accontentiamoci Però Oggi va così Allora Canottaggio Vai Abbiamo Canottaggio singolo Uomini Donne Londra Vediamo un attimo Che non mi ricordo più Tutorial Ok Ah ok Così Ecco perché era difficile Bastardo Questo Due volte Ok 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 Va bene Ci proviamo Canottaggio maschile Se femminile In realtà Maschile Ma che bello Dai ragazzi C'è tensione Nell'aria Qua di solito I britannici Sono fenomenali Mamma mia Che Era Guarda che roba Cioè mi stanno già dando via Merda Dai Cazzo Niente Eh ovvio C'è neanche una medaglietta Mamma mia Non ci siamo proprio Giornata da dimenticare Per lo sport azzurro Oggi Stiamo un po' recuperando Sono ancora quinti Non ce neanche una medaglietta Dai Mare 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 E qua la Gran Bretagna È maestra GBR Usa Stavo c'ero strage Oggi Usa Brasile terzo Questo non me lo aspettavo Ok Va bene L'importante è che non prenda altre ore Gli Stati Uniti Però Altri sport Carottaggio Vai Qua non metto Medio Perché a medio Stravinco Non c'è C'è troppo dislivello Dai Fioi A meno il podio Cazzo Cosa ho preso oggi Solo un bronzo Mamma mia Che fiori di merda Buona partenza stavolta Attenzione Sto facendo un miracolo Calma 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 Ci vorrebbe più steccone Che le azze qua Calma Calma Mamma mia Sto faticando Calma No Sta arrivando Sta arrivando La Great Britain Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sonia è finito Almeno una medaglia La voglio però Almeno una medaglia No Sto crollando Sto crollando Sto crollando No Non crollare Non crollare Non crollare Adesso Dai Galeazzi No 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 Terzo Cosa una medaglia Almeno C'ho provato Usa Argento Ragazzi Ci vediamo per i medaliere Non sarà bello Oggi Ma almeno Abbiamo lottato Due bronzi A volte a casa Allora ragazzi Vediamo i medaliere Purtroppo C'è il sorpasso Negli Stati Uniti Con un oro in più 15-14 Però È tutto ancora Super combattuto E Ci sono ancora Tante discipline Dove posso far bene E Poi Considero la Gran Bretagna Che sta salendo benissimo L'Australia Lo stesso Anche la Cina Sta recuperando bene L'Olanda Una bella sorpresa Per il momento E poi le altre Bene o male Sono tutte assestate Con sempre Diciamo Le delusioni Per il momento Sono Germania La Francia Neanche tanto la Germania È tanto in crisi E la Russia Che non riesce a prendere Il primo oro Niente raga Adesso abbiamo Il calendario Della sesta giornata Che prevede Tanto canottaggio Quindi Sulla carta 1, 2, 3, 6 Medali d'oro Per la Gran Bretagna Speriamo di no Poi abbiamo il kayak E BMX Freestyle Quindi insomma In queste discipline Anche qua l'oro Non lo vedo molto Sinceramente Speriamo bene Però ripeto Non sarà semplice Diciamo che La giornata 5 e 6 La 5 Speravo qualcosa di meglio Ma la giornata 5 e 6 Erano un po' in previsione Già dalla 7 Vedi invece Skit Sollevamento pesi Dove di solito Vinco sempre l'oro Tiro con l'arco Allo Londres Ma Abbiamo ancora tanta roba Tante canne al fuoco Tantissime medali da segnare Raga Sotto il Comandone Veneziano La sfida Stati Uniti Italia Continua Ciao